Luigi Scala, nato a Fornì, il 20 luglio 1905, abitava in piazza Vittorio Veneto 13, a Torino. Si laurea in scienze naturali presso l'università cittadina, diventando successivamente assistente e poi professore presso l'Ateneo Torinese. Faceva parte del movimento di resistenza contro il nazifascismo. Iniziò nel 1930 con l'organizzazione clandestina Giustizia e Libertà, insieme a Mario Andreis e Aldo Garoshi. Nel settembre del 1931 Luigi Scala contribuì all'estensione del giornaletto Voci d'Officina e riuscì a diffondere tre numeri, ma nel dicembre 1931 la polizia ne bloccò la divulgazione. Il 9 gennaio 1932 Luigi Scala fu arrestato insieme ad alcuni studenti e processato dal Tribunale Speciale. Venne condannato a otto anni di reclusione. Scarcerato nel gennaio 1935 per condono, riprese subito la sua attività politica. L'11 ottobre 1936, un nuovo arresto insieme ad un gruppo anarchico, a causa della propaganda svolta in favore della Spagna Repubblicana. Il 12 marzo 1937, il Tribunale Speciale condanna Luigi Scala a 12 anni di reclusione. Nell'agosto 1943 fu liberato dal carcere di Castellanfranco Emilia, insieme ad altri detenuti, tra i quali Vittorio Foa. Successivamente si elega al partito d'azione, con il frantello Giancarlo, entrando nel comando regionale G1, nome di battaglia Gigi. Il 2 dicembre 1943 fu arrestato dai tedeschi, insieme all'apparente Marisa Scala ed incarcerato presso il carcere Le Nuove, di Torino. Il 21 febbraio 1944 venne deportato a Mauthausen, numero matricola 53455. Luigi Scala sopravvisse all'internamento. Uscì dal campo in condizioni devastanti, a causa delle privazioni e della violenza subita all'interno del lager. Il professore era alto 1,80 ed aveva una costituzione atletica, ma era ridotto ad una larva umana. Pesava 38 chili. Venne ritrovato da Marisa Scala, grazie alla sua perseveranza. Giro così e dico Torino, Piemonte, Torino, Piemonte. Guardavo per terra, guardavo. A un certo momento, mentre sono lì, mi sento prendere la gonna e mi sento proprio sussurrare a Marisa. Marisa, io guardo. Ho visto un essere, insomma. Non sapevo se era uomo o donna. Poi sono rimasta all'occhita e ho riconosciuto gli occhi. Era Luigi. Era steso per terra lì sulla paglia. Ho cercato di raccoglierlo, ma è chiaro, era alto 1,85, eccetera. Si è pure 45 chili, ma ho chiamato gli infermieri, eccetera. Insomma, l'abbiamo caricato sulla tubulanza assieme con altre 5 persone. Il viaggio, non le dico, Bozzano. Avevamo le assi sulla tubulanza, perché ogni tanto c'erano le buche sulla strada. Allora mettevamo le assi e la tubulanza passava sulle assi. Si è arrivati sul lago di Garda, ci ha fermati, li abbiamo tirati giù per lavare la tubulanza, perché era tutto sangue, mortisi, eccetera. Siamo arrivati a Torino e Luigi l'abbiamo portato nella clinica di Vassalice, dove è morto dopo 10 giorni. Gli altri, San Luigi, e sono morti tutti, sono morti. Ma perlomeno sono morti in un letto di ospedale. Luigi morì a Torino, il 20 luglio 1945, in una clinica cittadina. Di fronte al portone della sua ultima residenza, da uomo libero, in piazza Vittorio Veneto, 13, dal 22 gennaio 2019, una pietra d'inciampo richiesta dagli studenti dell'Istituto Superiore Paolo Boselli, il rincordo di questo oppositore politico, che ha lottato per la libertà al costo della propria vita. Anche la loro la pierna di San Gutt C'è scritto qui abitava Luigi Scala, nato nel 1905, arrestato 2-12-1943, deportato 21-2-1944 a Mauthausen e morto il 21-7-1945. C'è un grosso riconoscimento per una persona che ha dato la vita per la resistenza, per rendere l'Italia libera. Lei ha qualche ricordo? No, perché noi non l'abbiamo conosciuto. Io sono nata nel 1953, lui è nata nel 1905. Hai ricordi magari che da 9, che da 9? No, perché l'unica che parlavamo un po' di sua cugina Luigi era la zia Marisa, che è nata nel 19. Mio padre ha sempre parlato pochissimo. Lui ha assistito all'intervista. Ma nel 1909? Comunque, io sono nata nel 1953, lui nel 62, quindi non potevamo... Troppo giovani. Troppo giovani. Non mi tanto adesso, proprio giù. Hai visto. È così. E infatti sono dovuta documentarmi anch'io, perché... Sì, certe cose si raccontano, però quello che ho letto non lo sapevo io. Mentre della zia e di mio padre sappiamo di più. Prima perché la zia, che è la nostra diva, ha fatto, così l'abbiamo chiamata, ha fatto tante cose in televisione, interviste, sui giornali, mentre mio padre rifugiva da questo. Anche perché, per la mia spiegazione personale, è che per quanto lei abbia fatto grandi cose, lui è stato internato a Buckeman da Cao, ha fatto la Marcia della Morte, ha fatto delle cose che ha preferito dimenticare, che poi non ha dimenticato perché sovente di notte per anni tentava di scappare, dava pugni, ma solo perché credeva di essere ancora lì. Quindi il trauma non è mai stato superato? La mia spiegazione è sempre trattata così. Sì, sì. La sua divisa del campo di concentramento è al Museo di Torino, le carceri. Il Buckeman da Cao non devono essere stati dei bei soggiorni. Quindi, quando è tornato da sua madre, era 35 anni, poi sono nata io e mio padre è stato diversi anni in sanatorio. Ecco perché c'è differenza tra noi, perché era preferibile non avere subito un altro figlio. La zia non ha mai avuto figlia, è stata solo forza. Ma non aveva, sì, la durezza. Lei era intorno tre giorni fa, 99 anni, dovrebbe concluto 100 anni adesso. Aveva la grinta... Aveva la grinta... Sì, 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 perché mi ha chiesto. Anche mio padre, aspettavamo da... Prima che mancasse qualche... Ho mancato a... Il 3 di maggio. E pochi mesi prima mi disse proprio Ah, vai a vedere in piazza Vittoria ci hanno messo la targa. Non ha riscanto. Non era ancora un figlio. 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 E comunque... E' importante non dimenticarsi. Certamente. Specialmente in questo periodo. Anzi, direi che proprio in questo periodo, con tutto quello che sta avvenendo, bisognerebbe ricordare, perché quello che hanno subito non si dovrebbe più ripetere da nessuna parte. Invece la storia non si segna, ma che vuole. Non si segna, ma che vuole. Invece la storia non si segna, ma che vuole in questo periodo. Che giro un nuovo figlio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.